Ciao, io sono Ketty D'Amico, Cettinedda, e oggi voglio parlarti di... Emigrato? No, in prestito da Reggio, in modo che anche tu possa dire... E' un saccio che sono i cristiani! I amo! Beato te che stai a Roma! Beato te che stai a Milano! Beato te che stai fuori Reggio! Le ascolti e pensi, beato te, perché non sai cosa significhi essere straniero in terra straniera. Avvicinatevi, vi racconto una storia. Reggio Calabria non è soltanto un punto nel mezzo, o quasi, nel mar Mediterraneo, ma è anche un modo di vivere radicato all'interno del nostro DNA, tanto che possiamo definirci organismi geneticamente modificati, sì, ma in chiave regina. E tutto questo si traduce in una particolarità nel nostro modo di essere, di pensare e di parlare. Per esempio, nel nostro organizzare una cena o un pranzo con degli invicati, e chiederci con una punta di perplessità. Reggio Calabria è come una malattia dalla quale non vorresti mai guarire. E non sai se sia meglio così, perché forse insieme a lei potresti anche morirne. È per questo che ogni volta che sei lontano dalla tua città, è sempre un colpo al cuore ogni volta che vedi una macchina targata RC, oppure ogni volta che senti una cadenza ambocica, simile alla tua, la riconosceresti tra milioni. E così ti avvicini di soppiatto con fare discreto. Qui il tuo puntato è, scusami senza volerlo, ti ho sentito parlare, ma di dove sei? E quando quell'altro ti risponde, il rigio, parte la danza del regino ritrovato di gioia e di felicità, che si conclude sempre con uno scambio di numeri di telefono e con un Oh, la prossima volta il facevo una mangiata? Tu si con noi. Perché da lontano, noi emigrati, ricostruiamo così la nostra famiglia. Reggio Calabria è un po' come la mamma. È rompiscato, l'è irritante, ti fa arrabbiare, ti fa disperare, ti fa dire, come andava, io non torno più. Eppure è impensabile smettere di amarla anche solo per un momento. Reggio l'ha sempre un tuo cuore. Reggio anche come una bellissima donna distesa tra il mare e la montagna. Ti sorride sempre, anche con la pioggia. Ti saluta con le mille luci dello stretto e ti abbraccia ogni volta che varchi la soglia di casa tua. Non le importa chi tu sia diventato o cosa tu abbia fatto nel frattempo, le importa soltanto una cosa, riaverti. Ed è sempre lì che la troverai ogni volta che ne avrai bisogno. Quando vai via, le fai perciò una promessa. Io un giorno tornerò a essere tuo. Anche se sai, ma lo sa anche lei, che ciò difficilmente avverrà, ma non importa. Ritorni nelle città che ti hanno tuo malgrado adottato. Sei stanco, deluso, ma non arreso. Mai arrendersi. Sei come Rossello Ara sulla cima della collina con Tara, alle spalle. Alzi il pugno al cielo e gridi forte perché tutti ti sentano, anche Reggio. Giuro che non mi avrete mai. Oh voi barbari, potrete avere i miei soldi, ma non le mie ossa, non la mia anima, quella mai. E quando morirò, da trecent'anni, se spero, seppellitemi di fronte al mare, a che io possa bearmi della bellezza, dello stretto per l'eternità. O in alternativa, va bene anche il chioschetto dei gelati, perché sì, ok, il mare è bello, tutti i due che è buliti, ma vuoi mettere una bella briocia ripiena di gelato? E io amo! Ciao! E ti è piaciuto questo racconto? È migrato? No, in prestito da Reggio! Ne troverai tantissimi altri dentro il libro Io usaccio che sono i cristiani della Chance Edizioni ed è acquistabile sul sito www.lashanceria.com O in alternativa, lo potrete anche acquistare nelle librerie. Ciao!